Il treno regionale, proveniente da Termi, il filetto all'Opaterni, delle ore 16.31 e il matrimo al binario 7. Attenzione, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno alta velocità di Tarunza, 94, montanità, 3 in Italia. Il treno mediacata di Tarunza, 95, ragazzotti allunque, di 오� SMS, delle ore 16.31 e noi ci sono soldati per nononanarsi dalla linea gialla. Il treno alta velocità di Ravalio, inAREL, è il treno steal. Il treno è il treno giocato. Grazie.